Luisp è partner della Coca-Cola per il concorso Vinci un pallone, dona un pallone. Ogni giorno impari 50 palloni della Coppa del Mondo FIFA. Stappa Coca-Cola e scopri se hai vinto. Invia il codice stampato sotto il tappo BSMS o inseriscilo sul sito www.coca-cola.it. Sul retro dell'etichetta troverai tutte le informazioni. Per ogni pallone vinto, Coca-Cola ne donerà uno a Luisp per progetti di calcio etico e sociale. C'è tempo fino al 30 giugno.